Il mio popolo si sta cercando di difendere, di difendere i suoi dritti, la sua casa, le sue famiglie e penso che noi dobbiamo difendere fino al fondo per cercare di avere il futuro libero di quello che la mia vita si desidera e noi desideriamo di essere parte dell'Europa. E di che l'Europa potrebbe fare di più per aiutarvi in questo momento? Dobbiamo mettere più pressione, lo sappiamo che mettendo pressione le cose possono cambiare, dobbiamo cercare di tutto per portare la pace e di tranquillizzare, di finire questa brutta brutta guerra. Abbiamo soprattutto bambini, qual è il messaggio che lancia i bambini? Andre, un messaggio per i bambini che in tanti ti ritengono il loro idolo? Il mio messaggio che è, soprattutto quel messaggio che abbiamo cercato di mandare con il sindaco qua, di loro si devono cercare di finire la scuola, di tranquillizzarsi, di poter essere inseriti nel miglior modo possibile dentro la comunità italiana e anche da parte d'Italia lo chiedo di dare tutta l'assistenza e possibilità a loro di sentirsi a casa.